Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci ancora nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare a pianoforte. Oggi vediamo un brano di Bruno Mars che si chiama Talking to the Moon. Cantare in Libertà Bene ragazzi, all'inizio in questa canzone ci saranno 5 accordi che sono Do maggiore, quindi due tasti neri a sinistra c'è il Do, Do Mi Sol forma il Do maggiore, Poi avremo Mi maggiore, quindi Mi Sol diesis Si, Mi maggiore Poi il La minore, questo è Do, Si La Quindi La Do Mi forma il La minore Il Sol maggiore, Sol Si Re Ed infine il Fa maggiore, Fa La Do E la canzone farà così Come abbiamo visto, il Do e il Mi durano quattro battute, mentre il La minore e il Sol si dividono in due e due, e poi il Fa avrà ancora quattro battute, tipo Poi andando avanti troviamo un altro accordo che è il Re minore, quindi se questo è Do, Re Fa La, forma il Re minore, e farà così. Poi ci sono altri accordi che abbiamo già trovato, quindi vi faccio solo ascoltare e voi capirete a che accordo mi riferisco E poi gli accordi saranno sempre gli stessi E si alterneranno in una successione che troverete nel testo che vi lascerò in descrizione Bene, anche questa era una canzone semplice da suonare nel pianoforte Io vi lascio in descrizione la diteggiatura per entrambe le mani E in più un link su dove trovare il testo con gli accordi di questa canzone Inoltre in descrizione trovate sempre dei link su delle puntate per imparare gli accordi del pianoforte Vi do appuntamento alla prossima puntata Grazie 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 a tutti